signore e signori per voi su questo palco gli atleti e i ballerini della dynamic center sport di trezzo sull'adda un bel applauso signori iniziamo iniziamo subito con la prima dimostrazione di judo judo di trezzo con la partecipazione con la dynamic center a voi un po' di trezzo Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.